La mia scelta per l'Erasmus 2022 è stata ed è la Warsaw University qui a Varsavia. I motivi che mi hanno spinto a partire sono stati molteplici, da una curiosità comunque di conoscere nuove culture, nuove persone e anche soprattutto la curiosità di conoscere di più questa capitale europea che è tanto vicina a noi ma anche molto differente sotto certi punti di vista. Il supporto dell'università, in particolar modo della CEMI, quindi della commissione, è stato un supporto davvero importante e costante. Non escludo di poter voler rimanere qui anche finita la mia esperienza Erasmus essendo appunto alla fine del mio percorso universitario e è sicuramente un'esperienza che porterò con me per tutta la vita. Grazie a tutti! Grazie a tutti!